I finanzieri del GICO, della sezione GOA della Polizia Economico-Finanziaria, della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, coordinati dal procuratore capo della distrettuale antimafia Giovanni Bombardieri e dall'Aggiunto Gaetano Paci e dal sostituto Francesco Ponzetta, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla sezione riesame del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Francesco Ferraro, Gregorio Marchese e Luca Martinone, indagati tutti nell'ambito dell'operazione di PG convenzionalmente denominata Vulcano. La Corte di Cassazione, lo scorso 29 aprile, ha respinto il ricorso dei tre imputati, rendendo esecutivo il provvedimento restrittivo nei loro confronti, che nel frattempo sono stati condannati anche in appello per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacente Ferraro e Marchese, mentre per porto abusivo di armi e danneggiamento con l'aggravante mafiosa Martinone. L'operazione Vulcano, che si è conclusa nel luglio del 2016 con l'emissione del fermo di indiziato delitto nei confronti di 12 soggetti, ha consentito di disarticolare un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina destinata alle famiglie di Indrangheta, dei Molei, dei Piromalli, degli Alvaro e dei Crea. Le attività investigative hanno riguardato anche il comandante di una nave portacontainer proveniente dal Sud America, la MSC Folin, impiegata sulla tratta California Express, la rotta di maggior interesse per l'importazione di cocaina dal Sud America all'Europa. Il capitano al soldo dei narcotrafficanti, una volta giunto in prossimità delle coste italiane, consentiva il trasbordo della sostanza stupefacente verso piccola imbarcazione, proprio al fine di erudere i controlli doganali all'interno dello stesso scalo portuale di Gioia Tauro.